Parliamo della notte dei morti viventi, un film che io adoro semplicemente, è il film che io per anni ho usato come risposta quando mi veniva chiesto qual è il tuo film horror preferito e continuo ad usarlo, soprattutto la mia passione per questo film è stata rinvigorita dalla visione della versione in 4k che vi faccio vedere adesso della Midnight Factory che mi ha inviato e la prima volta che esce in 4k il cofanetto chiaramente è una bomba galattica, un libro, i film, il libretto, il libretto stupendo e vediamo se nel libretto c'è qualcosa anche per parlare di film, una locandina famosa fatta in cartolina e dentro ci sono tre ore di contenuti speciali, il film in 4k, poi vediamo la versione curata da Romero, come si dice, il disco c'è in blu ray in 4k quindi se non avete il lettore 4k ve la cavate comunque, è un film particolare, io sin da quando ero ragazzino magari non avevo la conoscenza del cinema che ho oggi a quasi 47 anni, però già da ragazzo avevo capito quanto questo film fosse fuori dagli schemi, quindi non riuscivo magari a razionalizzare nel mio cervello quanto fosse importante, però c'erano già degli elementi che mi facevano dire ma questo film è fuori di testa, cioè è veramente qualcosa di anticonformista proprio rispetto a quello che è il cinema solitamente, per queste ragioni intanto, prima di tutto perché c'è un protagonista nero, siamo di fronte a un film del 1968, quindi un protagonista nero, tutti gli altri personaggi sono dei bianchi, c'è una protagonista Barbara che dopo un fatto scioccante rimane appunto catatonica, rimane sotto shock per quasi tutta la durata del film, quindi anche come tipo di comportamento, un comportamento estremamente realistico, è difficile vedere un comportamento così realistico in un film horror, di solito sono meno realistici, sono più funzionali alla storia, cioè succede qualcosa di tremendo ma il personaggio deve continuare a fare cose, invece lei no, lei entra in shock, Ben si chiama mi sembra il protagonista, cerca di scuotere, di farla riprendere, comunque l'aiuta, è un personaggio estremamente figo, un altro elemento, e scusate lo spoiler, ma questa recensione è solo per persone che l'hanno già visto, poi se non l'avete visto interrompetela, un altro elemento incredibile è che lui muore, lui l'unico che meritava di sopravvivere, perché? Perché si è battuto in tutti i modi per salvare tutti, si è battuto per cercare di proteggere se stesso e gli altri, ha fatto le scelte più razionali e alla fine muore per un equivoco, ucciso da questi giustizieri, insomma gente che sta cercando i non morti per ucciderli e lo scambia per un non morto, e allora lì questo film porta dentro di sé tutta una serie di stimoli per pensare che questo sia un film, un film politico, la cosa interessante secondo me, e qui magari andrò contro tendenza, è che secondo me non è un film politico nel senso in cui viene inteso dalla maggior parte dei critici o di quelli che hanno parlato di questo film, perché la volontà di fare politica non è così consapevole, non è così pensata, la volontà di fare politica in questo film non c'è, c'è però un personaggio molto progressista che è Romero, che decide di fare un casting, il termine che si usa è blind casting, significa che io scelgo il protagonista senza tener conto della sua etnia, perché fa blind casting? Perché l'attore, adesso scusate mi apro perché poi mi confondo con i nomi, l'attore che interpreta ben, Dwayne Jones, è il miglior attore che Romero e Company conoscono, è il migliore in assoluto, e loro vogliono la qualità nel loro film, quindi non si preoccupano minimamente se è bianco o nero, lui è il più bravo che conoscono e lo chiamano ed è il protagonista, quindi la politica in realtà è molto più sofisticata rispetto a come viene fatto oggi, cioè dove il personaggio di colore, scusate il nero, o il personaggio omosessuale, viene inserito forzatamente per questioni tra l'altro di marketing, non per realmente per questioni politiche, è diverso invece qua dove si è veramente più avanti rispetto ai ragionamenti di oggi, e non si guarda al colore, cioè Dwayne Jones poteva essere bianco o nero, che a loro non fregava un cazzo, questo è un modo di far politica indiretto però, non voluto, quindi La Notte dei Morti e i Venti è un film politico ma in modo involontario, naturale, è il riflesso di come erano Giorgio Omero e i suoi collaboratori, cioè ragionavano in questa maniera, quindi il film rispecchia la loro mentalità. È interessante però che appunto le loro convinzioni, il loro modo di ragionare poi abbiano intriso il film di tutta una serie di elementi affascinanti che fanno vedere il film come qualcosa di estremamente politico, quindi gli zombie come la rappresentazione della società americana, del consumismo, del capitalismo, l'uomo che divora un altro uomo, quindi questa smania di potere. Ci sono tantissime chiavi di lettura che si possono trovare all'interno del film, ma secondo me sono casuali e penso che sia la cosa affascinante del film, non perché non siano volute ma perché sono del tutto casuali, sono involontarie. Quindi già senza avere competenze o comunque un allenamento su ciò che è l'arte della comunicazione visiva, un ragazzo si può rendere conto, vedendo La Notte dei Morti e i Venti, si può rendere conto di quanto questo film sia avanti. Anche oggi è avanti, è avantissimo questo film. Rivederlo in 4K, comunque in questa versione, è qualcosa di fenomenale, perché io l'ho sempre visto in qualità disgustose, cioè in televisione, ho il DVD, ho un DVD della Notte dei Morti e i Venti dove si vede malissimo, quindi non è veramente qualcosa di fantastico questa trasposizione in 4K. Ho avuto modo di vedere anche delle, notare delle cose che riguardano proprio gli zombie, che come sapete appunto sono i primi zombie concepiti in questa maniera. Sono gli zombie di Romero infatti, viene definito così, viene definito quasi il libro della genesi degli zombie, questo film, cioè il punto di partenza di un tipo di mostro che poi sarà portato avanti per un sacco di tempo. Ma ci sono delle cose che secondo me si sono perse, forse addirittura anche nei film di Romero si sono perse, che ho notato nel primo film, che è un film molto più ingenuo per quanto geniale. Per esempio gli zombie, che sono quasi sempre persone non in decomposizione, sono persone morte, quindi pallide, con le occhiaie, ma non sono morti che hanno le ossa di fuori, le viscere di fuori, sono molto più simili agli umani, quindi in questo terrorizza di più ed è interessante questo aspetto, perché il fatto che assomigliano agli esseri umani più di uno mezzo scheletrico è tutto putrefatto. Per esempio uno zombie di Fulci non sembra un essere umano, sembra un mostro uscito dall'inferno, mentre invece questi sembrano esseri umani, tant'è che uno di questi mostri, questi zombie, è il fratello di Barbara, quindi è proprio la rappresentazione dell'uomo contro l'uomo, dell'uomo che si ribella all'uomo, del fratricidio, non so come spiegarvela. E poi ci sono delle caratteristiche comportamentali di questi zombie, come per esempio l'essere abbagliati dai fari di una macchina. Cioè gli zombie in La Notte dei Morti Viventi si coprono il viso quando vengono colpiti dai fari di una macchina, o hanno timore del fuoco, quindi sono molto diversi da come poi sono stati rappresentati negli altri film. Il film doveva essere un'altra trasposizione del libro Io sono leggenda, di Richard, scusate non mi ricordo il nome, Richard Matheson doveva essere un'altra trasposizione di quel genere lì, quindi vampiri, degli strani vampiri, perché anche nel film L'Ultimo Uomo sulla Terra questi vampiri sono più degli zombie in realtà. e comunque in quel film lì ragionano, parlano, si parlano nel film con Vincent Price. Quindi Romero decide di fare una variazione su quel tema lì e li trasforma in morti, in morti risorti, in morti che non vogliono rimanere in pace, sottoterra, insomma. Il film addirittura si doveva chiamare Night of Anubis, per fortuna non si è chiamato così, quindi Bo probabilmente andava a pescare da cose religiose di altre culture. Al di là di questi aspetti narrativi, ecco, estetici, narrativi, estetici mi riferisco proprio ai personaggi, a come sono rappresentati, c'è una caratteristica cinematografica invece molto potente che rende questo film piuttosto inquietante, che aiuta il film ad essere inquietante al di là del fatto che ci sono dei morti che infestano la Terra e ti rincorrono. Ed è dato dal tipo di inquadrature. Adesso voglio farvi vedere un po' un pezzettino di film, magari se con l'audio basso, così capiamo insieme che tipo... Allora, il film è caratterizzato da due tipi di inquadrature, una con la telecamera poggiata su un cavalletto, quindi statica, fissa, stabile, quindi un cinema più classico, come potete vedere qua, e altre inquadrature dove la telecamera diventa una telecamera a spalla, quindi una cinepresa a spalla. C'è una scena qua che aggiunge una sorta di realismo a quello che sta accadendo, che è lo zombie, ecco questa è un'altra caratteristica che non si vede spesso negli zombie moderni, cioè prendere un oggetto e utilizzarlo per fare qualcosa. Qui lo zombie raccoglierà un mattone, un sasso, e cercherà di sfondare il vetro, ma la cosa interessante è che non lo sfonderà al primo colpo, cosa che nella maggior parte dei casi un regista avrebbe fatto, avrebbe scelto comunque, cioè lo zombie piglia il sasso e spacca il vetro. No, qua rimane quell'imperfezione, quell'imprecisione che la vita reale ha. Vedi? Non è una cosa immediata, lui non è che prende e spacca il vetro, e c'è dietro un lavoro, quindi è una cosa molto particolare che dona tantissimo realismo al film. Poi, adesso vi faccio vedere due caratteristiche importanti. Il film ha questo, nei momenti in cui la telecamera diventa una telecamera a spalla, una cinepresa a spalla, guardate come gli assi si inclinano in continuazione. In questo caso abbiamo visto proprio la, guardate come come si inclinano continuamente e alcune inquadrature addirittura sono dal basso e dall'alto in modo, adesso qua la situazione si è calmata, però se noi andiamo su, adesso la cerco, ecco, guardate questa inquadratura dal basso, questa inquadrature con questa diagonale fondamentalmente, perché è una diagonale da terra verso quasi l'angolo opposto del soffitto, vedete il soffitto nella parte qua, ecco, sembra una diagonale che va fino a qua, ecco, queste inquadrature, soprattutto quando ci sarà l'invasione, adesso ci vado, scusate, qua ci sono le interiora, ecco, questo qua è il primo film dove vengono divorati le interiora degli esseri umani, anche se questi sono di animali, chiaramente sono andati in macelleria a prendere questa roba, questa qua è una inquadrature che è veramente qualcosa di strepitoso, cioè, c'è una qui, ci sono due quinte praticamente, una di qua e una di qua, e c'è una profondità pazzesca grazie a queste quinte, cioè, lui, tra l'altro, che porge, cioè, che punta questo pezzo di mobile contro i zombie, determina anche questa lunghezza nell'inquadratura, è veramente una figata pazzesca, e il film è pieno, è costellato di, di questo tipo di inquadrature, per me il cameraman era veramente un genio, poi il film credo che se lo sia montato tutto Romero, all'interno della casa, vedete che ci sono delle ombre sparse, e la casa è, cioè, la casa così com'è, a parte che è tipo una casa mezza abbandonata che loro hanno preso, dove addirittura, è tipo abbandonata, quindi l'hanno dovuta risistemare per poterci mangiare nelle pause, eccetera. Fate caso che nelle scene, sia esterne che interne, la luce è interrotta da delle ombre, sono state create con dei pannelli, quindi per rendere più drammatica l'inquadrature, la messa in scena, nell'intero film, sia nelle interne, guardate come, guardate questa cucina, è piena di macchie, macchie nere, e macchie di luce, scusate, è piena di macchie nere, e macchie di luce, proprio perché sono stati inseriti questi pannelli, per rendere più drammatica la scena, funzionano molto bene anche all'esterno, anche perché poi, se no la scena sembrerebbe, illuminata in modo artificioso, sia all'interno che all'esterno, invece così è molto più casuale, e drammatico, a me addirittura sembra quasi espressionista come modo di fare una scenografia, cioè usare l'ombra, la luce, la fotografia, quasi come una, come appunto una scenografia, l'ultimo aspetto importante, perché poi gli aspetti interessanti, nel film ce ne sono tantissimi, è la musica, la musica, essendo che Romero e Company non avevano i soldi per fare tutto e bene, quindi avevano, mi sembra, 114 mila dollari, che sono pochissimi, la musica praticamente è stata comprata, è stata comprata una raccolta musicale, di quelle, come se fossero le raccolte di musica, un tanto al chilo, però comunque fatte, fatte bene, però era una raccolta di musiche, principalmente per film di fantascienza, allora se ci fate caso, adesso non so se è all'inizio proprio del film, concentratevi sulla musica, ecco la musica, viene dai film di fantascienza, la sentite? Romero si è ascoltato tutte queste musiche, e ha deciso di inserirle, anche in momenti in cui non c'è un'azione concitata, e questo dà chiaramente un senso di ansia al film, perché tu vedi una macchina che va, appunto con Barbara e suo fratello, vanno al cimitero a trovare il padre, morto, ma è una situazione così normale, già la musica ti sta dicendo, qualcosa non torna, qualcosa, c'è qualcosa di storto nel mondo adesso, non è più il mondo normale di prima, è un mondo dove, anche quando vai in giro in macchina, tranquillamente, c'è qualcosa che non va, ed è molto interessante rivedersi in film, secondo me è molto interessante rivedersi in film, stando molto attenti alle musiche, perché sono state usate, e messe all'interno della pellicola, in modo molto curioso, quindi ci sono dei momenti, in cui sentiamo suoni spaziali quasi, suoni proprio da film di fantascienza, all'interno di un film, che in realtà è un film horror, dove non ci sono alieni, e in un certo senso, secondo me questa cosa, ha donato al film, anche proprio un'atmosfera, spaziale, cioè una parte di noi, avrà pensato, gli sarà venuto in mente, ma se questi esseri, fossero, cioè se questa epidemia di zombie, fosse causata da qualche cosa, che viene dallo spazio, per esempio, ecco a me questa sensazione, me l'ha sempre data, e il motivo è semplice, il motivo è che la musica, è musica di accompagnamento, per film di fantascienza, anni 50, 60, è proprio quella musica lì, questo è un po' tutto, dai, si possono dire tantissime cose, sul film, sulle dinamiche che ci sono all'interno, tra i personaggi, che sono bellissimi, perché i personaggi sono veramente, tutti diversi tra di loro, e in qualche maniera, rappresentano anche un po', l'America di quel tempo, forse anche l'America di oggi, questa è l'edizione della Midnet, vediamo se c'è qualche immagine, dentro il librettino, interessante, sì, sicuramente, infatti vedete qua, come vi dicevo, è stata scelta quell'immagine lì, è un caso, io non l'avrò neanche guardato il libretto, scusate, è stata scelta per l'immagine lì, perché è veramente una delle più fighe del film, e poi qua c'è la bambina, che divora il braccio del padre, stiamo parlando di un film del 1968, quindi, questo è un film ovviamente, dove tutti hanno fatto un po' tutto, infatti vediamo l'attore, che gli attori qua, che giocano col Chuck, questo è tutto per la recensione della Notte di Morti 20, spero di essere riuscito a darvi una visione anche un po' diversa del film, perché è molto di più di quello che sembra, e basta.